Solo spazio dedicato all'avvino, curato dal nostro vice direttore Rocco Tolfa. Non c'è zona d'Italia che non abbia il suo spumante, questa è la nostra ricchezza. Oggi parleremo di una zona del Piemonte, di Gavi, e abbiamo qui con noi Chiara Soldati. Perché la tua famiglia a un certo punto decide di scommettere solo spumante? La mia famiglia ha cominciato a produrre vino quasi un secolo fa, ma è stato mio padre negli anni 70 a credere in questa grande passione, a credere in questa grande scommessa di un autottono, di uno spumante del territorio e soprattutto uno spumante dalla grande longevità, quasi 12 anni di invecchiamento. Questo è stato un grande valore aggiunto del nostro territorio, del Gavi e di quello che può essere il grande potenziale di questo vitigno. Tuo zio, lo scrittore Mario Soldati, ha raccontato il mondo del vino in tv. Che consigli ti dava? Te lo ricordi? Assolutamente, io mi ricordo Mario quando ero bambina, ragazza e ormai donna nel mondo del vino. Sicuramente la genuinità, l'essere sempre se stessi, essere innovativi e non fermarsi mai di fronte agli ostacoli. Chiara, il ruolo delle donne nel mondo del vino oggi è fondamentale. Tu giri il mondo, quali difficoltà ti sei trovata e quali soddisfazioni hai avuto? Sicuramente questo ruolo di ambasciatrice è un ruolo importante. Sono felice di rappresentare l'Italia, il mio territorio e nel mondo. Le difficoltà fanno parte della vita, ma sono anche lo stimolo a migliorarsi. Le soddisfazioni sono grandi. Tutte le volte che vedo un sorriso di chi assaggiando il mio vino, ringrazia per le emozioni che gli diamo. E anche l'essere su tavoli importanti, come quando Barack Obama ha brindato alle elezioni con il nostro spumante. Quindi sicuramente essere parte di emozioni, essere parte di momenti, essere parte di pezzetti di storia.